Voi pensate di avere una grande intuizione in gioventù e poi col tempo dover aspettare decenni perché questa intuizione venga stabilita come realtà da un esperimento e avete tutto il tempo di potervi godere la soddisfazione di aver vissuto questo esperimento e di aver effettivamente dimostrato che ciò che avevate pensato in maniera teorica era nella realtà. Ecco questa è la storia un po' di Higgs che ci lascia oggi ma il vero problema è che la sua scoperta non è stata pubblicizzata e soprattutto non è stata spiegata bene perché non funzionava dal punto di vista della comunicazione ovviamente perché non era interessante per imporre un messaggio come altre scoperte scientifiche hanno imposte per esempio per puntare una società nichilista. Ora questo è un discorso complesso quindi tutti quelli che non vogliono discorsi complessi chiudano il video e se ne vadano. Ma io so per certo che voi siete gente voluta e quindi sarete in grado di seguirmi in questo video dove farò qualcosa di diverso a quello che hanno fatto gli altri perché qui ho visto una serie di divulgatori per fortuna non lo sono che hanno detto un sacco di cose lette pari pari da certi siti quindi se vi andate a leggere il testo dei siti trovate più o meno quello che vi hanno detto questi divulgatori che non hanno mai colto il punto della questione di cos'è il famoso bosone di Higgs in realtà il bosone conta poco, conta il campo di Higgs e ve lo spiego io anche se sarei l'ultima persona che dovrebbe spiegarvi ma visto che non lo fanno gli altri tocca a me andiamo avanti guardiamoci intorno, tutto quello che c'è intorno a noi che cos'ha di caratteristica? ovviamente in maniera materialista potremmo dire che sono tutti protoni, neutroni, elettroni particelle, molecole e tutto ciò si regge insieme ma hanno una caratteristica che è la massa però c'è una particella oppure un'onda dovremmo dire che non ce l'ha questa massa e come è possibile? esiste qualcosa che non ha la massa? sì esiste e si chiama la luce, il fotone il fotone che può essere microonde, può essere raggio X, raggio gamma oppure più facilmente quello che vediamo ora, luce visibile sono tutti i fotoni che arrivano in quantità incredibili dal sole sostanzialmente anche da riflessi vari però soprattutto dal sole e ci danno questa visione grazie a quello che noi abbiamo come cervello che ci crea un'immagine sulla base di quello che riceve dei fotoni ovviamente cambiandolo a modo suo come gli torna meglio allora, perché esistono degli oggetti, delle onde che non hanno massa? voi direte è una cosa controintusiva ma è normalissimo perché questo universo che non è così deterministico come voi credete perché è basato su un infinitamente piccolo che non è affatto determinista dove l'osservatore cambia l'esperimento cioè voi vi trovate anche qui muovendomi cambio alcune cose ma questa è un'impressione, no? e quando andate a fare l'esperimento della doppia fenditura ovviamente sarebbe bello fare l'esperimento a doppia fenditura e vedere quello che succede quello che succede è interessantissimo poi io dico fatelo di persona però è abbastanza noto dal punto di vista scientifico da anni che l'esperimento a doppia fenditura è particolare perché se c'è un osservatore si è una figura che fa vedere come se le particelle fossero corpuscolari quindi dei corpuscoli peraltro se usiamo i fotoni non hanno neanche massa però si comporta in maniera corpuscolare il famoso dualismo onda-particella mentre se non c'è l'osservatore fanno una figura di interferenza quindi siamo di fronte a qualcosa che non ha nulla a che vedere con quello che noi potevamo immaginare quindi è come se il mondo, l'universo ci osservasse e se noi controlliamo, verifichiamo cambia diciamo come se un po' il creatore si nascondesse volesse che noi non scoprissimo la verità la vera natura di questo universo vorremmo metterla così? magari a alcuni fisici non piacerà però io la metto così, ok? e il nostro universo è molto strano anche perché la massa non è una caratteristica intrinseca delle particelle ma è data dal campo che attraversano cioè ovunque permeato c'è questo campo di X che fa parte della testitura spazio-temporale potremmo dire anche se forse questo è un'idea un po' obsoleta ecco, questo campo di X dà praticamente la possibilità di attraversare le particelle a velocità diverse quindi a seconda della caratteristica che hanno le particelle ma è il campo che determina quindi è come se noi abbiamo un vaso d'acqua ci lanciamo delle monetine e ovviamente a seconda di come sono fatte le monetine oppure delle palline oppure degli oggetti molto leggeri come il polistirolo vediamo se rallentano o se non riescono nemmeno a affondare oppure se passano attraverso semplicissimo il fotone è la particella che il campo di X la attraversa in maniera come se non esistesse ecco quindi non serve non gli dà potere mentre le altre particelle la sentano e come rallentano il neutrino rallenta meno certamente il protone rallenta di più però intanto abbiamo quindi la possibilità di vedere questa caratteristica delle particelle delle particelle di avere massa dovuta più che altro al campo di X e però come hanno fatto capire che esiste il bosone che è una particella effettivamente sono riusciti tramite l'esperimento al CERN a stabilire che questo bosone compariva per un attimo dal campo di X diciamo e questo sono riusciti a farlo per un attimo per capire che che non era una fantasia ma era una particella ma questo bosone è la manifestazione del campo quindi perché il problema è che qui voi non vi rendete conto la realtà non è che sia qualcosa di così immateriale come ci hanno insegnato i nichilisti che dominano il mondo oggi ma è qualcosa di molto 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 aleatorio è come se fosse un sogno e nel sogno appaiono e scompaiono cose e nel vuoto appaiono e scompaiono particelle mi sembra strano ma è questa la realtà che viviamo dobbiamo rendercene conto e in proprio trovo che abbiano chiamato il bosone X particella di Dio anche perché come vi dicevo è più utile inteso come campo la particella è la manifestazione del campo tra l'altro e nel vuoto che poi alla fine è sempre tutto campo di X si manifestano un sacco di particelle neutrini, antineutrini protoni, antineutroni appaiono e scompaiono e questo ormai è assodato ma queste cose ovviamente non sono passate nella visione comune che è rimasta la fisica di Newton un po' come una casa di roccata la fisica di Newton che si più o meno continua a funzionare se guardiamo per fare la spesa o per stabilire alcune orbite ma ci sono degli errori piccoli ecco la fisica di Newton ovviamente era sbagliata ma non era quando io dico era sbagliata si arrabbiano tutti no no era sbagliata perché era inesatta capite era inesatta e la fisica di Einstein era esatta? no la fisica di Einstein era inesatta anche quella e quindi era sbagliata sì era inesatta anche quella e quella è la fisica esatta e non è ancora stata trovata probabilmente perché si dovrà andare avanti finché non si capirà che coloro che hanno creato questo universo olografico io diciamo inizio a pensare che sia veramente un universo olografico anche perché la congettura andatevi a leggere la congettura di Maldacena cercate e capirete alcune cosine interessantissime vorrebbe essere davvero in futuro dimostrato come a X gli è successo che Maldacena che è ancora abbastanza giovane insomma sta andando un po' su negli anni ma ancora giovane potrà avere la soddisfazione di vedere che la sua congettura è stata dimostrata e che quindi l'universo effettivamente è un ologramma a due dimensioni ci vorremmo arrivare e certamente questa cosa non piacerà ma non tanto perché questo ci ridurrebbe in realtà non ci riduce perché noi siamo la coscienza dentro l'universo noi siamo qualcosa qualcuno stiamo arrivando a capire e però qui ci pensa anche Penrose ha tentato ma è stato osteggiato molto alla comunità scientifica Roger Penrose è un genio premio Nobel uno dei più grandi geni della fisica è stato osteggiato perché lui ha detto ma se le cose stanno così forse forse non è tanto il discorso della particella di Dio non è tanto dover essere predenti per forza ma forse la nostra coscienza è qualcosa che trascende l'intero universo vi sembra strana questa intuizione in un mondo dove nelle stazioni compaiono delle scritte che ci abbassano non solo più a scimmie come ha fatto Darwin che però era in buona fede ma addirittura ad insetti ma di questo parlerò in una prossima puntata sulla comunicazione perché ricordatevi che è tutto comunicazione e che la realtà interessa poco perché è come la comunicano che fa la differenza e io di comunicazione me ne intendo fidatevi certamente più di fisica per cui magari ho fatto gli errori ma sulla comunicazione sappiate che ho trovato dei sottotesti molto interessanti in una serie dove bisognerebbe indagare a capire se c'è qualche messaggio nascosto alla prossima fermo ora iscriviti al mio canale l'eremita su youtube non ti costa niente stiamo provando a cambiare il mondo con l'equalismo ma anche con le vostre idee perché l'equalismo comprende tutto non ti costa niente non ti costa niente non ti costa niente